La sanità calabrese a Tabico Settore in Emergenza torna in primo piano con 2.191 assunzioni in sanità fatte in Calabria in 16 mesi e l'annuncio che ha fatto il governatore della Calabria Roberto Chiuto nel periodo in cui il settore gli è stato affidato in qualità di commissario ad acta incontrando i giornalisti ha detto facciamo un'operazione verità, diciamo quante assunzioni ci sono state attraverso questa struttura commissariale lo facciamo anche per chi dice, con un minimo di ironia, che stiamo governando con gli annunci, così non è all'incontro hanno partecipato anche il subcommissario della sanità Ernesto Esposito, il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Iole Fantozzi e il commissario straordinario di Azienda Zero Giuseppe Profiti si tratta di quella che Chiuto ha definito una grande attività di reclutamento non c'è mai stata un'attività tanto imponente in tutti gli anni di commissariamento questa attività è stata possibile in ragione di diversi decreti che abbiamo fatto nel dettaglio sono stati assunti a tempo indeterminato 1450 i quali devono essere aggiunte 741 unità di personale stabilizzato a tempo determinato sono state assunte 1080 persone inoltre sono state effettuate assunzioni anche con lo scorrimento delle graduatorie idonei purtroppo, dice ancora Chiuto, queste assunzioni sono intervenute mentre è aumentato il numero di pensionati ne abbiamo avuti più di 1300 se non avessimo proceduto alle assunzioni di cui 829 nei primi mesi del 2023 molti ospedali oggi sarebbero chiusi ci hanno anche chiesto più volte di procedere alle assunzioni ha continuato il governatore Chiuto in merito al rapporto con i tavoli romani bisognerebbe che guardassero i dati odierni e li confrontassero con quelli prodotti dai commissari precedenti indicati dagli stessi tavoli e che non hanno assunto quasi nessuno ad eccezione di Scura che nel 2015 ha iniziato il reclutamento vorrei anche ricordare per finire che i tavoli romani sono quelli che hanno disposto nel 2008 il blocco delle assunzioni in Calabria creando questo disastro io mi sono trovato a dover assumere mentre il problema del reclutamento dei medici e del personale sanitario è gigantesco in tutta Italia nonostante questo ci siamo riusciti